Volevo concludere con questa cosa qua. Allora, chi era Leonardo e cosa ci insegna? Ci insegna secondo me che studiare è la cosa più bella del mondo, perché più studi, più copi, più inventi cose, più diventi un Leonardo da Vinci. Purtroppo, in questi giorni sta uscendo fuori questa notizia che qualcuno ha trovato il DNA di Leonardo da Vinci, vuole scoprire il DNA per trovare i discendenti di Leonardo da Vinci. Io mi chiedo chissà quante cose burocratiche gli hanno fatto firmare quei poveracci che adesso si credono i discendenti di Leonardo da Vinci. Attenzione, è pericoloso, perché magari adesso quello che cominciano a dire ha il copiletto e la bicicletta è mio, e poi io gli dico no, la bicicletta non l'ha inventata Leonardo. Ma il problema cos'è? Il DNA di Leonardo, queste ricerche assurde che secondo me sono peggio di novella 2000, è scandaloso, vergognoso che della gente possa andare a studiare e cercare il DNA di Leonardo. Primo perché non esiste il DNA di Leonardo, perduto. Non c'è il cadavere di Leonardo, è inutile che lo cercano. È inutile che vanno a cercare il pelo del capello della ciglia che Leonardo, mentre stava dipingendo la gioconda, gli è caduto sopra il dipinto. Non ha senso. Ma anche se tu trovassi la ciglia, chi ti dice che quello è un pelo, magari dell'assistente Salai che stava giocando con gli assistenti mentre disegnava... Capite che è assurda questa cosa. Ma anche se avessero trovato il DNA di Leonardo, e anche se avessero fatto tutte le ricerche genealogiche più importanti in questo mondo, ma chi se ne frega? Ma attenzione, è pericolosissima questa cosa. Lo dico qui per la prima volta perché è uscita la notizia l'altro ieri. Ma è possibile che noi dobbiamo andare a cercare il DNA di Leonardo da Vinci per trovare i suoi discendenti? Cosa vuol dire? Che quindi il genio di Leonardo è solo DNA? Cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Che solo se nasci Leonardo da Vinci o figlio di Leonardo da Vinci allora diventi Leonardo da Vinci e gli altri sono destinati a morire? No! Quello che ci insegna Leonardo da Vinci, quello che insegno io da 25 anni che mi muove per passione, è che se vogliamo essere Leonardo da Vinci, basta imparare da lui. Bisogna studiare. Il significato cos'è? Ai nostri figli cos'è che dobbiamo andare a raccontare? Che Leonardo da Vinci era un genio, un extraterrestre, sovrannaturale, che se solo lui, che è nato col DNA extraterrestre, o queste stupidaggini? O è meglio insegnare ai nostri figli che per diventare Leonardo da Vinci è meglio che fai come lui, ovvero studi dalla mattina alla sera, tutti i libri che trovi, li critichi, li copi, e mentre li copi li capisci e cerchi di modificare quelle macchine, quei disegni anatomici, per capirli ancora meglio, per fare qualcosa di meglio. Così si diventa Leonardo da Vinci, non andando a cercare il suo DNA. Curiosità intellettuale, va bene, chi se ne frega, ma attenzione al messaggio che stiamo dando. Quindi per diventare Leonardo da Vinci basta studiare come faceva lui. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie.